Cosa facciamo? Boh ma aspettiamo sì Tipo ammazziamo quello lì Vai vai insegui Non sono di traverso Io lo inseguo basta Io funziono da riete Tu lo insegui poi Recupero dettagli in sessione intanto Vuoi unirti? Sì Dove è il mio veicolo secondo me? È quello segnato della mia Non c'è La sessione in questa parola è piena È piena Oh cu almeno guardaci no? Sono 4 in questa sessione È difficile venire te Adesso sono in 10 Se ne andiamo Vi rinvito No che è un po' Sì 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 Mi fa ancora Stai unendo a SGTA online Ok Quindi non accetto ancora Perché se no Questa cosa impazzisci tu Lo accetto Dove è il mio veicolo secondo te? Mi sto andando Accettala tu Oh dov'è il mio veicolo secondo te? Eh? Ha rubato la polizia Ma dove cazzo è andato? Ha rubato la polizia Lo dà Adesso entro Vediamo Adesso è entrato da Goku Sì ma Boh mi sento le voci del Grazie a vero Io sono entrato Dov'è? No forse no Oh Simeon mi ha dato una missione Ah sì No non ci sono Diopolo di Goku La tua sessione È piena Goku Mi dice che è piena Venite da me Che ce ne sono Di più tre di questo È invito da Hai Difficile mi da 1,5 Rp No ma non fare Difficile Che sono veramente Difficile Io entro dal Simo Tu entro dal Simo Tu entro dal Simo Mettilo 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 se fai difficile Cartuccia ce ne ho Dai vieni qua non pare con la mia sede No no non voglio finire Parti come si sta iniziando La sociale La facciamo in tre No No non voglio Mi deve iniziare queste titanze Avvio sessi Marchi Recupera Rockford Marchi sei da me Recupera la cabrio Se avessi il mio veicolo Non ho fatto no Sai com'è Quindi mi si danni i veicoli E l'ho pagato eh L'ho pagato anche 11 mila schifosi soldi Perché? Gli ho messo l'assicurazione e l'insegnatore Adesso mi unisco da te Così c'ho gli rp squadra moltiplicati Sì sono nella missione Uno e mezzo Capirai Eh 50% Eh lo so Prova a unirmi da Simo Gokuto entra da lui Se va non si dice Stai registrando Potevi dirselo però Ma è ovvio che registra No sto partecipando a quella di Gokui Ma allora sei Ma basta Fatteli qualcosa Fatteli qualcosa Fatteli qualcosa Sì c'è Poi a dire Cosa devo far sentire No E per esempio Io mi farò muore per guardare Io sto guardando dopo fa la missione Ok Cosa stai facendo? Guardando per fa la missione Ma mi stai vedendo? Cioè mi sta caricando per dovere La macchina che sto usando se la vedi è Dice Vuoi guardare Necessito recupera la cabrio La cabrio Sì sì mi ha fermato Mi ha detto Il rato non c'è neanche Il rato non c'è neanche Il rato non c'è un caricamento Non c'è più niente Basta Basta C'è Basta L'r8 la cabrio Ti ho chiesto di prendere un'auto cabrio Sì Sì è l'r8 Io l'ho già fatto Questo dove seminare gli sbirri I birri I birri I birri I birri I rapino Andrè sulla spiaggia seminario Credo sia andrà Basta Faccio una rapino Una ropina Una ropina Sai cosa ha detto prima Stavo facendo una ropina Una ropina Sì Lui fa le ropine Scappano Oh i birri se ne vanno No Beh ma mi si è bloccato La sabbia io Ma non c'è No Simo posso dirti un complimento? Eh Sei inutile E mi si è bloccato Sei inutile Cioè io stavo entrando nella tua E tu sei entrato in quella di Goku Ma allora Sei handicappato? Oddio Gesù Questi non sono i birri Sì invece erano i birri in borghese Sì ma abbiamo a che fare con gente handicappata Lui non riesce ad entrare da noi Lui non riesce ad entrare da noi I birri in borghese no eh Deve siamo se ne andate Eh non ero neanche impiato Ho fatto Non so Non so Ho quasi seminato i birri eh Sono qui eh Sono lì eh Sono qui Oh non ci si può mettere tre ore a seminare una birra però Sì semina le birre No non c'entra l'ingresso Sì ma occhiano là No 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 Via Via Se ti entri in zona Poi ci metti tre ore Dazi min ganglio però Cioè non c'è nessuno Non c'è nessuno Mi inviti un imibili un invito No grazie No te Non c'è nessuno No sono poi Ah è cosa Ho un po' di fright Dai concessione No mi fa schifo Spara fa craware Mi manchino Mi deve Non so non si vede la pepsi e parte e' buona la pepsi perchè a me piace fateli qualcosa ma deve far male ecco allora ti piace giura pensi di più a pepsi ma giura c'era anche il sarto il sarto eccolo tra noi kb io ho lancito di non essere antisportivo non ho un parco kb muoviti a invita stai calmo ho preso 15 jp non so cosa sono 1500 soldi 1050 rp i jp sono i jackpeno ok 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 non sono i jackpeno continui mi piace si se metti sempre in piazza che ti da più soldi non credo e allora no allora non metterlo non lo so si vota la vota la prossima devo votare un'attività no no devi fare free free no 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 non uscire no fai free qualcosa free free made no free free mode free mode aggiorna no no free mode mode free mode vota free mode che ritorna nella modalità libera eh sennò fai annulla e ritorna uguale no se fai gli esci di cambia sessione ora sta caricando dai è improponibile pericamente c'è un uomo non spartare dei bonus se muori tre volte senza uccidere ti era dato un bonus ah ti viene martirio vabbè oh dai che riferimenti non dico cattabicoglioso dai che comincia di parolaccia sta caricando forse mito di parolaccia aspetta forse cari un saluto il primo momento aspetta forse cari un saluto gli sale la la cosa non ho capito non ho capito secondo te cosa gli sale non lo so non lo so non lo so non lo so il tamarrismo il nazismo gli sale il nazismo eh lui sale il nazismo no lui sale il trigo amici seleziona invita no invita spedisci invito quello invito spedisci invito 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 invitato anche perchè online qui siamo in quindici cd ring grande aspetta aspetta cd ring come si fa a invitarlo nella crib invita pococchi invita invita nella crib entratemi contro quanto sei minuto con con il senso il mio è il più bello il ricercato con un sito l'opera il consumo con l'unico giusto perciò a partecipare pieno come è piena si metta vado da the ring raga ma dai è piena non è piena ci sono piena si dice una boiata si dice anche una boiata perchè io sto giocando dove? con goku da si dove? sono da te e io sto andando da the ring e tu invece non vai da the ring si sono a 200 metri da the ring e allora sai cosa succede se tu vai da the ring? eh? ti ammazzo? no adesso lo uccido dai uccidilo dov'è? così poi si disiscrive so io non riesco boh a me è entrato non so se poi son con goku però vedo un puntino azzurro è qui dentro sta facendo la rapina mi sa e allora sventrala no no sta comprando dei soldi lui compra i soldi eh si sta comprando i vestiti 1000 euro quanto li pagano? mi sa che sta parlando con me si ha detto goku 1000 euro li puoi pagare sugli 800 scontati? eh si penso si goomba ecco si mi sta seguendo oddio che volo beh aspegli scrivo che lo sento lo sento si lo sento no lo sento niente ssh vai fuori eh finisci fuori Simo come ieri ti cancello e stavolta ti banno eh ok magari va best game è un quando funziona eh quando funziona ok se non funziona adesso prendiamo questo veicolo mazzo dove sei? ma ho parcheggiato dai è pieno ho cacciato nel fuori oddio cos'hai? un veicolo un veicolo no 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 matto completo sei dai ti seguo ovunque tu dove vai? ti seguo di eh va bene arrivo io di te tranquillo dove sei? qua ti passo segno eh si ma non è che vado per votare le cose più veloci eh e cosa facciamo? boh ma aspettiamo sì tipo ammazziamo quello lì vai vai insegui 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 eh sì facile no? non sono di traverso vai io li insegui basta arrivo 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 lì io funziono da ariete tu lo insegui poi invitato che ti metto in questa schede t'ha invitato ma hai partecipato ma hai partecipato ma se questa non mi taglia la strada per esempio arrivo arrivo mazzo sono dietro di te eh superami perchè mi sa che vai un po' più forte eh dovrei mettere il microfono e dire dei ring di spararvi ma mi sa che lo sa no quello forse ti do una spinta si dai grazie tra l'altro mi sa che sto video viene un po' più lungo del solito è qui è qui Goku eh arrivo arrivo lo vedo lo vedo sta iniziando a piovere ce l'ho ce l'ho attento che tu hai poca tenuta come è sta iniziando a piovere? maialo scherzato contro il muro tienilo lì tienilo lì l'ammazziamo penso non farà anche nella mia fordista no ho sparato a the ring ammazzalo ammazzalo the ring ha ucciso l'ha ucciso vai vai bella si fa un'altra missione adesso bella adesso si sale qui seguitemi seguitemi allora aspetta metto il microfono se ne uno qui c'è uno qui c'è uno qui intanto cambiamo video l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso ah ma questo microfono è stato per il mio piano ah 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 ah